Tra i sostenitori di Pesaro 2024 c'è anche Intesa San Paolo, che si pone all'affianco del progetto della Capitale Italiana della Cultura, con politiche e iniziative mirate che rispecchiano anche la mentalità della banca stessa. Pesaro è una città magnifica, generosa, bella. Intesa San Paolo da sempre promuove l'arte, la cultura e quindi non potevamo non mancare. In questo territorio noi siamo banca dei territori, siamo una banca storicamente radicata, presente e quindi a maggior ragione vogliamo promuovere la cultura, come sosteniamo l'economia e tutto questo per uno sviluppo che sia crescita sostenibile sia dal punto di vista economico che sociale. Il nostro gruppo promuove ormai da anni la valorizzazione dei siti architettonici, dell'arte, della cultura nelle sue diverse espressioni. Ce l'abbiamo dentro il piano d'impresa, è proprio un capitolo a parte del piano d'impresa, piano d'impresa 2022-2025. Da un lato supportiamo e siamo partner delle principali istituzioni nazionali, di eventi, culturali, festival, mostre, e tutto ciò che riguarda i nazionali e internazionali, tutto ciò che riguarda la cultura in genere. E dall'altro abbiamo il nostro progetto cultura che parte proprio dalla valorizzazione, dalla custodia, dal mantenimento e anche della condivisione di tutto quello che è il patrimonio artistico e culturale della banca. Abbiamo anche un progetto che si chiama progetto Restituzione, che è di lunga data 1989, con cui collaboriamo con il Ministero della Cultura e andiamo a restaurare proprie opere d'arte del patrimonio artistico italiano. Sostegno e sviluppo dell'arte e della cultura non significa però solo valorizzare il patrimonio di un territorio, ma anche aiutare e sostenere le attività e le realtà che lo compongono. Diciamo che il nostro orgoglio è quello di sostenere l'economia reale, lo facciamo tramite l'attività che da sempre facciamo come banca, che oggi si è trasformata perché noi con il territorio, con i clienti, vogliamo supportarli nel corso di tutta la loro vita, e quindi per questo siamo appunto supporto all'economia reale. L'anno scorso nella sola provincia di Pesero abbiamo erogato 200 milioni di finanziamenti alle famiglie e alle imprese. Siamo proiettati nel futuro, nell'oggi e nel futuro. Il nostro programma per sostenere le imprese, per stimolare appunto la crescita delle imprese, si chiama Il tuo futuro è la nostra impresa. e con quello vogliamo stimolare la crescita e gli investimenti in quelli che sono gli investimenti futuri dei nostri clienti imprese, in particolare in tre filoni che stanno particolarmente a cuore a tutti e sono quelli della crescita sostenibile, quindi l'impresa 5.0 e la parte di transizione energetica, la parte di estero soprattutto dell'apertura a nuovi mercati e poi la parte che riguarda la transizione digitale e quindi anche la cyber security.